Si impunta su una nuova richiesta di documenti la vicenda dell'ecomostro di Rodi Garganico, la costruzione Roccamare che nel 2008 è stata dichiarata abusiva dal Tribunale di Lucera. È stato il Consiglio di Stato a chiedere all'amministrazione comunale di Rodi i documenti e le tavole grafiche inerenti alla costruzione dell'ecomostro. La vicenda, infatti, oltre che penale, percorre in parallelo un giudizio amministrativo. Da quando cioè la società Grottamare presentò al Tardibari ricorso contro l'annullamento da parte della provincia di Foggia della concessione edilizia e la conseguente ordinanza di demolizione emanata dal comune di Rodi. I giudici di primo grado nel 2013 respinsero quei ricorsi e fu così che la società decise di fare ricorso al Consiglio di Stato, all'approfondimento istruttorio che spetta al comune e al quale hanno chiesto di partecipare con propri tecnici di fiducia i cittadini confinanti con la costruzione. La Roccamare, ricorda la sede foggiana del WWF, è collocata interamente in una zona inedificabile, soggetta a vincolo paesaggistico e in una zona franosa individuata nel piano di fabbricazione, franosità che in quell'area è nota sin dagli anni 50.